Dal libro del profeta Baruch Al Signore, nostro Dio, la giustizia A noi disonore sul volto come oggi avviene per l'uomo di Giuda e per gli abitati di Gerusalemme per i nostri re e per i nostri capi per i nostri sacerdoti e i nostri profeti e per i nostri padri perché abbiamo peccato contro il Signore e abbiamo disobbedito non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio che diceva di camminare a secondi decreti che il Signore ci aveva messo dinanzi Dal giorno in cui il Signore fece uscire i nostri padri dall'Egitto fino ad oggi noi ci siamo ribellati al Signore, nostro Dio e ci siamo ostinati a non ascoltare la sua voce Così, come accade anche oggi ci sono venuti addosso tanti mali insieme con la maledizione che il Signore aveva minacciato per mezzo di Mosè, suo servo quando fece uscire i nostri padri dall'Egitto per concederci una terra in cui scorrono latte e miele Non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio secondo tutte le parole dei profeti che Egli ci ha mandato Ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore ha servito dai stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio Salvaci Signore per la gloria del Tuo nome O Dio nella Tua eredità sono entrate le genti hanno profanato il Tuo Santo Tempio hanno ridotto Gerusalemme in macerie hanno abbandonato i cadaveri dei Tuoi servi impasto agli uccelli del cielo la carne dei Tuoi fedeli agli animali selvatici Salvaci Signore per la gloria del Tuo nome Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno fino a quando sarai adirato Signore per sempre arderà come fuoco la Tua gelosia Salvaci Signore per la gloria del Tuo nome Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati presto ci venga incontro la Tua misericordia perché siamo così poveri Aiutaci o Dio nostra salvezza per la gloria del Tuo nome Liberaci e perdoni i nostri peccati a motivo del Tuo nome Salvaci Signore per la gloria del Tuo nome Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse Guai a te Corazin Guai a te Bezaida perché se a Tiro e a Sidone fossero venuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi già da tempo vestite di sacco e cosparse di cenere si sarebbero convertite Ebbene nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi E tu Cafarnao sarei forse innalzata fino al cielo Fino agli inferi precipiterai Chi ascolta voi ascolta me Chi disprezza voi disprezza me E chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato Sì Sì